Allora, spieghiamo un po' come funziona la live-ina di oggi. Oggi abbiamo una prova a non ridere interessante. Vi spiego. È una normalissima prova a non ridere, ma ho sviluppato una ruota. Questa ruota, non so perché ho accentuato così tanto, ruota, è una ruota con all'interno delle penitenze. Ora, queste penitenze dentro... Queste penitenze sono dentro questa ruota. Ce ne sono varie all'interno della ruota. Ho messo dona una sub, compro una maglietta di me contro te, cambia la foto di Instagram. Anzi, aspetta, ve le leggo tutte quante per bene, così potete assaporare anche voi che cosa c'è all'interno di questa ruota. Però già, compro una maglietta di me contro te, è pazzesca, secondo me. Dove cazzo è, zio Pera? Peni. No, l'ho cancellata, quindi ve le dovrò leggere io. È pazienza. Allora, all'interno abbiamo... Dona una sub, dona cinque sub, dona una sub ad un canale Twitch a caso, regala il VIP al qualcuno a caso in chat, cambia la foto profilo Instagram per una settimana con una foto di una scimmia, cambia la foto profilo di Twitch per una settimana con la foto della mia fototessera, guardo edit su di me in live, bevo l'acqua dei Wurstel. Questo va spiegato, ovviamente, praticamente tu devi far bollire i Wurstel in una padella, dopodiché fai, cioè, mangi i Wurstel e c'è acqua. L'acqua che rimane in cui hai bollito i Wurstel la usi per berla, insomma, una situazione abbastanza violenta. Poi, commento un video di Lion, questo qua, vabbè, ci siamo. Dono due sub, questo è il più grave. Mi mangio tre plum cake da appena sveglio e poi bevo. Morto, cioè, all'appado per tipo un mese. Cambio la foto di profilo su YouTube per una settimana in Walter White, compro una maglietta dei me contro te. Credo che le nostre penitenze di oggi sono state fatte. Come si fa a girare questa ruota ogni volta che rido, questa ruota gira. Fine. È molto semplice, molto, molto, molto semplice. Taglia di capelli non c'è, per fortuna, no, guarda. Ci ho pensato, non appena l'ho scritto, ho detto no. L'ho cancellato perché mi ha fatto poverissima. Grazie a Ricky di Happening Wolf per il TR1, grazie a Funtime per il Prime, a Loca per il tredicesimo mese, grazie a me stesso per il ventiquattresimo mese, a Manuel Hey Tuvalli che regala una sub, grazie di cuore bro, che regala una sub a Sara. Grazie anche a Misseccio per i mille bit, Mr. Misseccio, come mai, come mai, grazie per la donazione, micchia, sono un sacco mille bit, ti ringrazio di cuore, è bello. Tre plum cake più acqua appena svegli e overkill, cioè, muori tre plum cake e acqua appena svegli, capite? Cioè, è proprio quella sensazione di stare allappato per una settimana, proprio così, tagliati il cappello. O la cappella. Brobo, grazie per i mille bit, sei tornato, ciao bello, ma porca troia, mille, anche tu, tra Misseccio e Brobo oggi è finita, ciao ragazzi. Ma che vuol dire, allappato è tipo quando c'è la bocca che fa... Tipo quando ti mangi tre plum cake appena sveglio e poi tipo bevi l'acqua, che tipo ti si fa la farina, fai tipo i cappelletti dentro la bocca. Vabbè, signori, insomma, come si mandano i meme? È molto easy... Allora, i meme si mandano... Dai, non vale, non è parte di questo meme, aprire e vedere la N di Napoli. Io non devo ridere, nonostante i mod stiano spammando. Come funziona il Cobmeme Reaction? Intanto, se volete partecipare e inviare un meme, scrivere in chat punto esclamativo discord, vi dà il link per entrare all'interno del server discord. Una volta che siete entrati all'interno del server discord, dovete cercare il canale memas, che è questo qua, non si vede il cursore, perché... Perché non si vede il cursore? Vabbè, non si vede il cursore... Ah, ora si vede il cursore. Dovete cercare il canale memas, All'interno del canale memas potete inviare i memini. Prima di iniziare, leggiamo... Leggiamo un po' le regole. Sì, funziona il bot, ma te lo manda. Aleki, grazie del quarto mese. AskCube, grazie del Prime. Allora, al momento il canale è chiuso, appena darò il via, verrà aperto. La cosa che dovete mandare sono dei meme tramite immagine o dei meme tramite video. I video li prediligo, basta che non siano troppo lunghi. Non scrivete e non mandate link, quindi devono essere proprio caricati all'interno di questo canale. Niente black humor e alcun tipo di cosa che vada contro il toast di Twitch, se no mi buttano giù il canale. No, cioè non mi buttano giù il canale, ma devo bannare voi, io sto tranquillo. E il canale è alla slow mode, quindi potete inviare solo un meme alla volta, mi raccomando. Signori, a questo punto, una volta che ci siamo, io mando un emoji e... E, ok, appena questo messaggio arriva a 30 scimmie... No, 50 scimmie siamo pronti per iniziare. È il momento, 50 scimmie e iniziamo. 50 scimmie e si inizia. Quante siamo? 40, 44, 43... Dai, non fate le merde. 47, 47, 48, 50, ci siamo. 50, no, 48, non dobbiamo, eh. Ci siamo, signori. Signori, il canale è ufficialmente aperto. Mi raccomando, il vostro scopo è farmi ridere. Io devo entrare in modalità zen e non ridere in alcun modo. Vai. Vecchio, vecchissimo, se posso. Dieci anni fa, questo. Anche questo l'ho visto. Anche questo l'ho visto, però, old. Pure questo, vecchissimo, già visto. Slow mode. Questo è bello. Me lo sono salvato solamente perché è incredibilmente bello. Buon meme reaction. Grazie, palmucci. Beccatisto, no. Buttatelo fuori. Patata. Not funny. Se questo è il corpo dell'arma dei carabinieri, chiamatemi pure signor Matteo Messina Denaro. Non mi convince. È una mela con, di sottofondo, la canzone di Caparezza in instrumental, però. Ok, ci hai provato a farmi ridere. mai disturbare l'FBI polacco. Ai. Oddio, è stato emozionante vederlo. È un cetriolo con la faccia di Darkrai. Bellissimo. No, non salutiamo nessun amico Furry. Io non ho amici Furry. Io non ho amici Furry. Posso spiegare. Era per meme, non era per... Sono fregato. Ah, la descrizione sopra carina, però un po' sprecata, secondo me. Grazie a Piatina per il Prime, a Nico per il sesto mese, ad Alecchi per il quarto. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Vabbè, Poldo, dai, ti critichiamo per questo. Smettila. Do you like Jesus? Cattolic Mario. Beh, il ifunny.com di sottofondo mi fa tipo dire... No! 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 Gatti. Stava accadendo. Questa è una fregata. Che figata. Se c'era della musica, forse prendeva dei punti in più. Sister, listen to pop. Where did I fail? Buttatelo fuori. It is really worth it. Ok, cringe. C'hai provato, la descrizione fuori totalmente decontestualizzata. Mi sta facendo ridere. Oh, a swan, that's nice. I like swans. Oh, shit. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Visto. Prank. Perché il bambino è in quelle condizioni, scusatemi? Va bene. Bellissimo. Sta per trasformarsi in cazzo. Oh, Gesù Cristo. Era quell'espressione. Brobo, grazie per i 3500 bit. Fra, ma sei folle. Sei folle pazzo impazzito. Sei folle pazzo, tipo pazzo. Grazie per i bit, bro. E grazie a Dani per il quarto mese. Brobo, che ti devo dire? C'hai provato. Non mi ha fatto nemmeno troppo snuffare. Ho matato mio padre? No, sono il tuo padre. What? Poi, no. Sono pregno e tu sei il padre. What? Sto dicendo che sei pregno e io sono il bambino. TikTok, no fucking care. Non fottere con noi avenoni. Ordine della pena oscura. Odiamo le pulzelle. Ci odiamo l'un l'altro. Ironicamente. Ci soffiamo a vicenda nell'uretra. Viene una roba tipo flauto. Firulì. Firulà. Non ho riso. Non ho riso per nulla. Ok. Oh, questo qua è un chiaro possessore di frigitrici ad aria, ovviamente, per inviare un meme così vecchio nel 2023. Il vomero è un quartiere di Napoli, situato su una collina che domina la città. Ci sono molte ragioni per cui il vomero potrebbe essere considerato bello. One un po' mai chiava. Mi pare strano, viste che è magico chiava da mamma. No! È chat G qualcosa. Oh, Gesù Cristo. Ma è piaciuto sto cartone animato. Sono troppo vecchio. Le mie orecchie, zio Pera. No! No Mi ero dimenticato che non potevo ridere Scusate, il primo frame mi ha preso alla sprovvista Ma poi non è che ho riso tantissimo Ho fatto tipo Cioè, sei una snuffata più che altro Dio santo Mi ha preso alla sprovvista questo frame Era pure mega cringe sto frame Che palle Non mi devo scordare di ridere Zio pera E vabbè, dai, testiamo sta ruota Ho riso con un meme con un bagging dei maneskin Cioè, hai capito quanto è grave qua la situazione? Dai, fatemi Fatemi fare qua sta ruota Ho paura di girarla Ho paura di girarla, però Oh, ok 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 Siamo chill Siamo chill Iniziamo nel chill Iniziamo nel chill Dona una sub Tranquilla Tranquilla Va benissimo Stiamo tranquilli Iniziamo calmissimi Con la più bassa delle penitenze Questa è quella più Diciamo più Più comune Ok, ho regalato un abbonamento a caso Dovrebbe essere appena arrivato La facilità con cui puoi regalare abbonamenti Vediamo a chi è arrivato Vediamo chi è stato il fatidico fortunato È stato Brad Benvenuto Brad Ciao ragazzi Si è appena arrivato E niente Stiamo chill Stiamo chill Va bene Siamo sopravvissuti a questo primo round In modo In modo onorevole E poi Kerf regala dieci sub Ho perso io Non hai perso tu alla ruota Kerf Sei un pazzo Grazie Kerf Per le dieci sub regalate Grazie a Manuel Hey to Valley Per la sub regalata Grazie anche a Gino Platino Per il terzo mese Kerf Hai donato dieci sub Buonanotte Ah sei passato Giusto per darci la buonanotte Bellissimo Bella rega Continuiamo con questo meme reaction Cazzo ma questa mucca sullo skateboard Va fortissima È un'immagine potentissima Maledizione Mi piace un sacco Me la scaricherò Poi la musica dubstep di sottofondo Per ridere Queste sono le tipiche cose Che finiscono da tiktok Lo eliminerò Per preservare il mio discord Not funny Allora il primo Il primo ammetto Che mi stava un po' Facendo ridere I meme con chipmunk Mi fanno ridere Io ho constatato Che i meme con chipmunk Mi fanno ridere Non so per quale motivo Oh cazzo Naruto Shippuden 7 Per telefono Però russo Niente Tiki 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 taka Danny Allora Questa foto È una delle foto Più divertenti Che io abbia mai visto In tutta la mia vita Io considero questo screen Ne ho già parlato In un'altra live Una delle foto Più belle Mai prese fuori Da un Da un video Non lo so Uno screen perfetto Mi fa impazzire Infatti stavo per ridere Però mi sono trattenuto Bria Grazie per il 29esimo mese Ciao Zeb Capolavoro Lo so È bellissima Danny Eisenberg È pazzesco Mi servirebbe la foto originale Dovrei cercarla nel pc Ce la dovrei avere Qua da qualche parte Aspetta Dov'è No dai Non mi dire che non la trovo È che Boh Cioè non mi ricordo Forse faccio ordina per data Tranquilli Voi non state vedendo Io ce l'ho qua Da qualche parte Giuro Devo solo trovarla Perché sono pieno di foto Di Xuder Ma ho un sacco di foto Di Xuder Nel computer Ma per quale motivo No niente Purtroppo non ce l'ho A disposizione Al momento Forse l'avrò L'avrò cancellata Tanto tempo fa Senza ricordarmi Purtroppo Quindi Al momento Non la possiedo Appena è Ve la faccio rivedere Next Not fun Madonna quanto spinge Sto video No Cringe Mi ha cringiato Stavo Tentando di leggere Se dietro ci fosse scritto Altro Invece non è solo Mr. Beast Brobo Grazie per i 500 bit Allora Quest'uomo sono io Aspetta Devo imitarlo meglio È tipo Tipo così No lui sta tipo Tutto più Tipo Oddio Lo stai imitando bene Ma sai che ti somiglia Anche effettivamente Ma non ho la Non ho la barba Come lui Sinceramente Non sono Mr. Beast Mi metterò al posto Della tv Vediamo se qualcuno Della mia famiglia Se ne accorge Ragazzi la Prova a non cringiare Challenge È la prossima volta Ok Oggi è Prova a non ridere Il fatto che sia registrato da tik tok con uno slideshow lo rende peggiore Ok palmucci Tra l'altro L'avevo pure visto L'avevo pure visto L'avevo pure visto Però suonava un'altra canzone Quando è partita quella di plant vs zombie Dio santo Ma poi ho già riso Per sto stesso identico meme Porca troia Che palle No perché l'ultima volta non aveva questa canzone di sottofondo Aveva qualcos'altro Aveva qualche altra canzone di sottofondo Sono totalmente stupido Però l'ultima volta non aveva questa canzone di sottofondo Brobo Che donava Prima 500 bit Poi 5000 bit Mi ero scordato una Ops E poi altri 1000 bit Fra ma che stai facendo quei bit Quanto sei? Stai a 21000 bit Sei un pazzo Grazie fra Grazie di cuore per questi 12 milioni di bit Ti ringrazio Ma ora è il momento del Della paura Ora è il momento del panico Ora si gira la ruota Ora si gira la ruota Sono terrorizzato Sono terrorizzato da questa ruota Perché ce ne sono alcune che non voglio succedano Però 3 2 1 Il caso è dalla mia parte Il caso è dalla mia parte Oggi sta andando da dio Questa live potrebbe finire con solamente io che dono Tipo una sub ogni volta che rido Vedi ci stanno Oggi è tranquilla Oggi stiamo avendo fortuna Probabilmente la prossima sarà tipo la peggiore Però ok Ma me la so gufata E ancora nel chill Ancora nel chill Capisci? Ancora nel chill Stiamo Stiamo nella chill zone Grazie ancora a Brobo Per tutti sti beat Ma dai non vale E invece vale come? È stata fatta così la ruota E così andrà Così andrà Così andrà Bolzano Ma più che Bolzano Io avrei messo Trento A Bolzano Credo che ci sono gli orsi Pfff 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 L'ho scritta Italian Argument E lo so che è appena successo Ma non ci posso fare niente È bellissimo Poi come si blocca Come gira la pizza Come si può stare così In obbligo Guarda Ma poi capito C'è quello Gli ha lanciato una pizza Con la pala Cioè dovrebbero fare uno sport Che è solamente Lancio della pizza Con la pala Per forza Non è Non è Tempo di ruotare E vabbè E che ci possiamo fare Letteralmente È il momento Lui è un professionista Si vede Esatto Papapapapà No 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 Oh Ok Devo Donare una sub A un canale a caso Devo prendere Un canale Su Twitch A caso E donare una sub Signori È il momento Di decidere Un canale Twitch A cui donare la sub Insomma Bisogna Bisogna trovare Mò il canale Twitch Sì però Perché non si vede Devo sistemare Qua Justamente Ah 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 E Scusatemi un attimo Fatemi sistemare Catturo Finestro Ok 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 Perfetto Ora lo vedete Il momento di Regalare una sub A caso E Tocca Tocca Non si può Non si può scappare Non si può scappare Ti supplico Lion No ragazzi Non vale Lion è live Ma com'è possibile Ma è un È un cazzo Di vtuber Lion È una ragazza È Anna Questo non lo killo io Che anemo Io qui E vabbè ragazzi Tocca Ognuno Ogni tanto Quando viene Quando viene fatta Una sfida Bisogna Bisogna essere onesti Bisogna essere Totalmente onesti Bisogna essere onesti Bisogna totalmente Essere onesti Bisogna 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 Farlo Bisogna essere bravi Ecco qua Guarda Da Sado E invece Brilla di luce Degli altri Qui Che ho fatto fare In che senso Lo fatto È messa Duramente È stato orribile Non voglio più farlo Eh l'ho dovuto fare ragazzi Però non so se mi ringrazia Dubito Dubito che mi ringrazia Ma è apparso l'alert Non è via tu Ho rubato Ho rubato Un po' Ah Non è apparso l'alert Sì è bellino No È apparso Ma non ti hanno ringraziato È niente ragazzo Si è bugato Eh vabbè Eh pazienza C'è un sasso qui Pazienza Ci abbiamo provato Non Non ci possiamo fare niente Purtroppo Noi Noi il nostro L'abbiamo fatto E Pazienza Abbiamo donato la sub È il momento di continuare Col nostro Mim Reazione Allora Si potrebbe andare a fare La spesa Da md Questo ho già visto Signorina ma cosa fa Oddio che carino Ho un ananas Meme preferito del giorno È bellissimo Milo cazzo Te l'avevo detto Che dovevi droppare Una foto di agosto Dai basta Sto membro Mi fa già ridere Non è una rosa Non è un tulipano Fabbrica Italiana Automobili TerraNator Il coce Más poderoso Che ha esistito Con traction 4x4 E il Kring Quando è stato arrestato Andrew Tate Ah no Ok Grande TikTok Sempre sul pezzo Questo l'ho già visto Se non l'avessi visto Dieci anni fa Probabilmente sarei Pianto Cioè sarei a terra A piangere Brobo Altri mille bit Sei russo Ah Buono a sapersi Grazie di cuore Mr. Brobo Per gli altri Mille bit Stai impazzito Stai impazzito Fracico Oh my god Y'all Look It's a Grande Guarda Paypal Che c'è Mi hai Fitch non vuole Che tu ricevi I tuoi soldi Niente Ti ha Ti mando i soldi Su Paypal No Quando i tuoi genitori Dicono che Babbo Natale Non esiste Bugiardi Vi ammazzo Ok Vaporen Ma Voi lo sapevate Che Vaporeon Boia 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 Ok Ok Ah regà Ma quanto so belle Le strade di Roma Oh I gammali I gammali I gammali Grandi romani Grandi romani Ok B Stato buttato fuori Dall'ufficio Due volte Dalme tardi Usa l'oppio Ok Vegetariano Non fumava Non beveva Ispirato milioni di persone Non ho mai tradito La sua moglie Direi Mr. C Giusto Ma Mr. A Was Franklin Roosevelt Oh no Mr. B Chi era Mr. B Was Winston Churchill Ok Mr. C Chi sarà No Not funny Purtroppo Signori Dobbiamo bannare Questo dente Al nostro server Discord Quindi Ciao Bello È stato un piacere Averti con noi Ci vediamo Alla prossima Oh mio Dio Questo era TG Villager Villager TG O qualcosa del genere TG Villager Villager News Era Villager News Oh mio Dio Questa cosa era bellissima La vedevo quando ero tipo Un poppante Bellissima Ah tra l'altro Mi hanno appena mandato La foto di Danny Eh questa qui ragazzi È bellissima Guarda Guarda che capolavoro Di foto Eh ragazzi È una foto più bella È tipo Breaking Bad Non lo so Qualcuno Metto la colonna Suonata di Breaking Bad Su questa foto Perché mi spezza Ah Erva mi ha inviato I soldi su Payful Grande Erva Vecchio Ti sfido su Fortnite Ok 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 L'impanata Buone Ah c'è il cane Sì Eh vabbè ragazzi Questo è vecchissimo Ok Folclore Ok Questo dai pugni ai bambini Non ho riso Non ho riso Mi sono trattenuto Mi sono trattenuto Lo stava per buttare fuori Ma l'ho ingoiata L'ho ingoiata L'ho ingoiata L'ho ingoiata Questa risata Satanasso piglia tutto Grazie del Prime MattXD17 Grazie del Prime Qualcuno mi può fare la clip Così vedo Se ho riso o meno Perché non lo so Se ho riso Ho bisogno dello slow motion Qualcuno mi faccio la clip Andrex riesce a fare la clip E mandarla in chat Così Riesco a fare lo slow motion Del se ho riso o meno Madonna Sto me mi fa spezzare Grazie per i 905 bit Brobo Così E grazie a Zamzi Per il secondo mese Il varano Sono proprio 905 Eeeh Va bene Che chat onesta che hai Poldo Hai sorriso È vero È una chat onesta Nel caso Ridi adesso No no Era più una smorfia Ah allora va bene Most normal microphone in Ohio Vi devono togliere la capacità di commentare i meme Ok Oh Ah c'è il var C'è il var C'è il var signori C'è il var Possiamo vedere il var Possiamo vedere il var Eh si vede di merda bro Possiamo vedere il var Vai Che dite c'è la risata C'è la risata Secondo voi La risata c'è o non c'è Ve la faccio rivedere piano in slow motion C'è Secondo voi la risata c'è Vediamo Sondaggio È una risata silenziosa però Mod sondaggio in chat La risata c'è o non c'è C'è o non c'è Var Risata c'è o non c'è Siate onesti però Ecco tutti sì Eccala Quindi il var ha deciso che la risata c'è Mazzio Pera Vabbè sì dai Effettivamente c'è quel tipo C'è più una snuffata Che una risata effettiva È questo il dito in culo Che palle Eh vabbè In realtà l'avete votato in modo Veramente fastidioso Per farmi girare la ruota Non siamo onesti noi Bastardi Io che mi fido di voi Maledizione Va bene Va bene vado 3 2 1 No Ok Uff Dona 2 sub Porco 2 E ora sto diventa povero Oggi già ho donato tipo 5 sub Ok dono 2 sub Fortunatamente ancora le cose più Diciamo Pericolose Non stanno arrivando Ok regala un abbonamento Paia Dannazione Prima abbonamento Arrivato Dannato Var di merda Entro stasera Te le facciamo fare tutti Impegnatevi coi meme Impegnatevi coi meme Ti sta andando bene Eh Ti sta andando bene Dovrebbe essere arrivata pure l'alta Fatto Ok Grazie a sgresi O per il quarto mese Penitenza E reazione Corp Penso tiktok No mai ti prego Non sottopormi una cosa così Ok Questo è un fumetto italiano Tra l'altro What the fuck Madonna Quanto sono belli gli spot di Better Call Saul Sono veramente fatti da Dio Sto bene Sto da Dio Tra l'altro questo me lo salvo Mi stava Mi stava per uccidere Mi stava per uccidere Test No pizza Ma che cazzo è una Cos'era quella cosa Questa cosa Grazie di cuore per queste Tre sub regalate Ti stai divertendo Ma le stai ritornando Praticamente Grazie di cuore Che cringe Già visto Claudio Bisio Togliete tiktok Togliete tiktok alla gente Ah ok Ho un normalissimo ornitorinco Per me l'ornitorinco Subi 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 sub Grande tiktok Ok Mi sono cagato addosso Puliscimi per favore Mi sono cagato addosso Puliscimi per favore Mi sono cagato addosso Dio mio Io ti banno dal mio server discord Ma come hai pensato Che una cosa del genere Potesse farmi ridere Già visto purtroppo Granchio No Ma poverino Ma un granchio così Dovete smettere Di lanciare Le sottilette Sugli animali Dovete Finirla Povero granchio Cioè sarà morto Sto granchio Avrei spezzato le ossa Poverino Non hanno le ossa I granchi Il carapace Vabbè Ho riso Dio santo Ma poverino però A me mi dispiace Brobo Grazie per i 1590 bit Brobo Stasera si sta divertendo Vuole Vuole partecipare Attivamente alla live Grazie a Manuel Per i 69 bit E grazie a Il giugio maggio Per il prime Ciao ragazzi Ciao ragazzi È il momento di girare la ruota No che cos'è Cambio la foto Di cosa Cambio la foto E vabbè Tocca Da lunedì Ovvero quando uscirà il video In cui Editerò questa live Lo farò diventare Farò diventare video Da quel momento in poi Cambierà la mia fotoprofilo In Walter White Così Per ora è ristretta per voi Questa notizia A voi 1293 E poi sarà per tutti Che palle Che palle Per una settimana Il mio canale Verrà quella fotoprofilo Che merda Che palle Le oui oui Grazie per il quinto mese Grazie a A mollichina di pane Per il tredicesimo mese A raffo il baffo Per il prime Ciao ragazzi Quella di Danny No no Devo mettere Walter White Originale fra Devo mettere Walter White Originale Brobo è arrivato a 25.000 bit Tra l'altro Nice E vabbè Si deve cambiare L'immagine profilo Fatta E niente Almeno non è la fototessera Guardi il lato positivo Ci baciamo in bocca Come fanno i grandi No lion Oh mio dio Perché sembra Tanto busto di Mussolini Però fatto con Con Don Matteo Ok Ammetto che i Perfectly Cut Scream M'aggiungono il 50% Del divertimento in più WOOOOO Orbeez Oh yeah I'm in heaven Mr. Squidward You know Ok Oddio Che cosa orribile Mi ricordo che da piccolo Stavo soce Dissolve my dubbing In hydrochloric acid Hydrochloric acid Bello Dannazione Ammetto che stavo per ridere Che cosa Do What Basta con sto meme Del tubo Non mi fa più ridere E che l'effetto sonoro Mi fa ridere A Roma problemi Per ghiaccio Su strade E marcia a piedi Mentre continuano Le polemiche Su come è stata affrontata L'emergenza a neve Siamo in diretta Dal circo massimo Con Valentina Misti Ok Sì oggi splende il sole C'è anche molto vento E la situazione Sta lentamente Tornando alla Normalità E infuriano Le polemiche Vabbè ragazzi Mi dico Paolini Però vabbè Sta grippe è vecchia Come la Bia Favij Come si muove Movimentato Oddio Lui è quello Dell'urlo Liberatorio Tipo Oddio no Lo scheletro Ammazzato La mamma Di Bambi Emoji Delle risate Inclinata Tipo In obbligo Dai I meme Non mi fanno ridere No raga Oggi non ce sto Devo piangere Mentre risento Ultimo freestyle 2 di Sifat Second Ok Murray Poppins Che va in giro Dove andrà No Vecchio come la Bibbia Ok Va bene Ok 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 Sono io Tipico momento Io Gatto Però Smetti di dire Che le ragazze Fanno la cacca Non mi piace affatto Le mie capacità Di amare Sono irreversibilmente Danneggiate Monkey Che falle Non mi aspettavo Già stavo ridendo Per il tacco Non mi aspettavo Il rimbalzo Indietro Che falle Bello Boeing All in Ohio Devo bannare la parola Ohio Dalla mia chat Penso Sì sì Penso che la bannerò Allora signori Siamo di nuovo pronti Per la Per la ruota Del patio santo Tre Due Uno Ti prego Qualcosa di tranquillo No Oh no E vabbè Tocca Cioè Mantenere le promesse È una cosa importante E va fatto Bloop Il pesce gigante Vuole mangiarci Su Brick Ricks Signor Ronald McDonald Uno squalo gigante Di nome Bloop Ha ucciso Il suo Macker Drive E oggi Vuole vendetta Dalla squadra Distruzione Effettente Ma ci pensiamo Noi non ti preoccupare Amico mio Sì No poverino Lo dobbiamo consolare Poverino Non si preoccupi Ronald Noi siamo Io Non ho capito Che concept è Però Ciao Lion Anzi Facciamo Uno zoom Così si vede Meglio Ciao Lion E Ok Ciao Lion Davvero Un bel Video Metti like A questo Commento Se anche tu Vuoi Altri video Come Questi Queste emoji Rappresenta Me in questo momento Vabbè Che dire Devo Cioè Mando Oh zio Pera Cioè Questo screen Fa troppo ridere Che c'è Lion sopra E io sotto Me l'ha chiesto La ruota Che cos'è Il ponte Di tua madre Ah ok È il video Di Crash Bandico Scusate Mi faceva ridere Il ponte Di tua madre Vabbè Che palle Che palle Molto potente Confermo Grazie Brobo Per gli altri Mille Bit Eile Per l'ottavo mese Inaspettato Ora sei a 26.000 Sei contento Ok Mi hanno cacciato Dal barbiare Dopo che Dopo che gli ho chiesto Barba Capelli E palle Ok Non ho voglia di vederlo Dice che lo sdrogo Fa il mare Vediamo cosa ne pensa Aldo Moro Oh Oh Word 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 Yep 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 Based Totally based Totally 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 Validain bass De maledizione One hot and ready pizza Five dollars Crazy frog My favorite song That's not the song What Crazy frog Isn't the song It's the band Bellissimo Incredibilmente bello Questo Ok Web Oh mio dio È bellissima Edoardo Quando fai la lavatrice Non sai mai Come va a finire Il solo detersivo liquido Può non riuscire No Allora Mi ero dimenticato Se posso Non mi ha fatto ridere Così tanto Ho riso Per il mood Del meme reaction Mi ero dimenticato Che non potevo ridere L'avevo rimosso Dalla testa E vabbè Che palle Questo è ingiusto Mod Sondaggio in chat Questo è stato Ingiusto Perché me l'ero scordato Possiamo andare avanti O vale comunque Sentiamo cosa dice il popolo Mi pentirò tipo Fra un secondo Di questo sondaggio Sono io lo streamer Devo decidere io Perché devo stare Alla merce dei sondaggi No Cacati Ah a posto Vai Risata valida Vediamo Oh Brobo Grazie per i 2500 bit Gli ultimi di stasera Notte carissime Alla prossima Grazie alla voglia Ciao brobo Grazie di cuore Per essere stato qui con noi E grazie per gli altri 2500 bit Ma stai a 28500 Sei un pazzo Grazie bro Grazie di cuore Allora 320 persone Dicono Sì Siete delle merde Siete delle Ultramerde Siete delle Incredibili Ultramerde No No Che polle Pensavo finissi Su Dora 2 sub Questo è orribile Cioè capisci che Questa è la tortura Peggiore Cioè se Comprare una maglietta De me contro te Per me è minore Cioè capisci che io Domani mattina Mi devo svegliare Devo mangiare Tre plum cake Poi bere Vogliamo il video Vabbè ovvio Lo vedrete nel video Quando lo edito Però porca Cioè una tortura Infernale Cioè questa cosa È una delle torture Che utilizzavano Boh nelle prigioni Per far parlare I prigionieri Cioè a parte che Poi penso Starò per 8-9 ore Così Cioè mi devo lavare I denti Con un pezzo di ferro A staccare Perché veramente Non Ah che Che sensazione brutta E vabbè Questa è una tortura Incredibile Non so come Vabbè Colpa tua Che hai fatto scegliere Di spettatori Minchia è vero Se mi facevi I cazzacci miei Vabbè E niente Domani Si mangiano Tre plum cake Che palle Che palle Che palle Però si chiamava Oh my god Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Not funny Sto sbagliando Stupendo Wow Questo monte Ercorbo Grazie del secondo mese Sbismo Grazie del prime Bello Questa foto È vecchissima Dove l'hai trovata? Ok Don't ask me What spurred On this little piece Of advice But do not Put semen In your pc Oh my god Do not put semen In your water cooling Pro tip Number 80 Suicide Is never the answer Hey bro Vabbè Questo è vecchissimo Questo l'ho visto A milioni di volte Quando ero più piccolo Quando ero più piccolo Mi pazzire Che è mister Noi Questo è vecchissimo Ragazzi Io quando Carrasco Nuclear Cos'è Carrasco? Ah vaffanculo È quella cosa Di Joe Guesser What the fuck È incredibilmente Walsome Questo meme Va bene Va bene Che cosa è questa cosa? Ok Dalla barzelletta Dove l'hai presa? Veramente L'ordine della vena oscura Ma cos'è l'ordine della vena oscura Signor Signor Scureggia Anthony Il mister Beast No Man I love Frogs Ok 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 Ci bacia Ok Quelli vecchi Li skip E via Che sta facendo la signora? Chi deve arrivare? Grande Gatto Oh mio dio Questo meme È bellissimo Io avrei tipo tirato fuori la pistola E avrei iniziato a sparare No non è vero Ovviamente non l'avrei mai fatto Però ecco Insomma Che cazzo sta So bene Dio che paura Quel cazzo di gioco Allora I meme Quei chipmunk Mi fanno ridere Ma non sono Pazzeschi Ecco Ok La smettiamo con questi meme sui chipmunk Per favore Iscamorse Grazie per il quarto mese Ciao Il mio nome è Tirless Raptor E vi sfrutto per fare le visual Creare content E fare anche i soldi Oh mio dio ma perché l'ho fiato così bene Ciao Il mio nome è Tirless Raptor E vi sfrutto per fare le visual Creare content E fare anche i soldi Incredibile questo Ma poi fa pure Cioè si si mette là E finisce Ciao Il mio nome è Tirless Raptor E vi sfrutto per fare le visual Creare content E fare anche i soldi E poi fa E' incredibile ragazzi Meme sublime 100 su 100 Complimenti Meme del giorno Veramente bello Però adesso veniamo a noi Adesso ci sono Adesso ci tocca Adesso ci tocca Adesso ci tocca Che merda Però ovviamente questa volta La giro con tutto l'amore del mondo Perché questo nome mi ha spezzato in due Qua lo devo girare per forza Ah ok Cioè se finiva di nuovo Su mangio Tre più un cake Finisce Ne mangio sei E tipo svengo Devo donare due sub E vabbè Doniamo due sub Ragazzi Che ci possiamo fare Si donano due sub E che ci possiamo fare Regalo abbonamento Paga E dai dai Regaliamo ste sub Dai Regaliamo ste sub Oggi Oggi la gente Sta pigliando le grandi sub E io perdo soldi Dai Li ho recuperati Con i bit di Brobo Fortunatamente Ci sta Ci sta pagando Sta sponsorizzando Questa live Brobo Vabbè Complimenti a chi si è ripresi Si è si può insegnare Con il nostro Meme ration Not funny Ok Già visto Buonasera buon uomo Vorremmo cortesemente Acquistare dei biglietti Per lo spettacolo Barbie il film Grazie mille Davvero gentilissimo Poi Ok Molto bello L'ho apprezzato Dio è smifuerza Che sta succedendo No Aiuto con la faccia Nella neve Minchia si è grattugiato La faccia Not funny The game No Oh no Pold Mr. Beast esiste veramente Non so chi sia Nice balls bro Ai Che male Dio santo Ok Ok Mi è piaciuto Questo qua Mike Già visto E questo è anche Molto bello Alvin Io mi divertivo Come un pazzo A fare queste cose Tempo fa Ora non mi diverto più Gioco della gallina Non guardare la gallina Non l'ho guardata Le letture degli altri oggetti Le faremo Le letture degli incantesimi Di Orbeck E Irina Le faremo dopo Per raggiunto Ma che cos'è questo meme Del Del Porco Madonna che meme Quella clip di Sabaku Che Che bestemmia Ammetto che questa Me l'ha fatto molto ridere Così c'è Ci vuoi trovare Ci vuoi sperare La leggenda misteriosa Che nessuno sa svelare Ok Questo meme doveva finire Prima Voice pocket Girl's pocket Ma che cazzo Spin Ok Ok Tempo fa Diceva Among Us Questo Non è un meme Ecco Io Ho seriamente Una Spera di carbone fuori MAMA BASED Tutta puttana Come osi dire no A Sonic Il riccio blu Del Napoli Ah Sono un simpaticone Oh Sassuolo E' stata così Walsom Questa cosa Folletti Folletti Guarda Guarda Come si ha fatto Scusate Rompipalle Di una mosca Di merda Tutel 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 Non era scontato Mi aspettavo Un'esplosione Mi aspettavo Tipo Un'esplosione Atomica Invece Niente Vabbè Gira la ruota Gira la ruota Gira la ruota Gira la ruota No Sto diventando Sto diventando Povero Sto diventando Povero Sto diventando Poverissimo Che falle Minchia Costa 20 euro Donare 5 abbonamenti Mazzio pera E vabbè Dai 5 abbonamenti Donati in chat Che ci si può fare Sto diventando Povero oggi Vabbè Non ci posso fare niente Poldo ha donato 5 sub Grazie Poldo Per queste 5 sub Regalate Squalo Macoel Grazie del secondo mese Portallino Grazie del prime Congratulazione A chi si è preso Le sub Piattata Piander Culo Non mi interessa essere capito Mi interessa Essere capito Essere capito Ok Ora Non mi rido Ora non rido Non mi rido Non riderò Mai Mi riderò Mai Più All'Italia Tagliato male Non è l'inizio Non è l'inizio Non è l'inizio Sì È l'inizio Già visto Peccato che la filigrana Di TikTok Alla fine rovini tutto Happy Wheels Ok 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 Vabbè questo è troppo vecchio Si è ucciso Ma è piccolissimo sto meme Non riesco a percepirlo Non lo vedo Cioè non riesco Non posso farlo ripartire due volte Dio santo Ma è un franco bollo Lo sto scaricando continuamente Non me lo fa scaricare Non lo posso Hai riso Non ho riso Ho riso Non ho riso Ve lo state inventando Hai riduto Sì Hai riso No Hai sbuffato Hai riso Hai pasta Sì ma non vale Sì ma non vale Non ha riso VAR È il momento del VAR Signori È il momento del VAR Poi ho visto il TG Che c'è il lockdown VAR Signori Che dite Vediamo il VAR Io non lo so Ok apri il VAR Vai Andrex Andrex ormai ha detto al VAR Andrex ormai ha detto al VAR Alexa stai zitta Mo ti uccido Zitta Ha riso Sì No Sì 38 Non vale i sondaggi Devo vedere il VAR Non mi interessa Ho bisogno del VAR Sennò non mi metto a ridere Hai riso non per il meme Ma per le dimensioni del meme Ma non ho riso Io non ricordo di aver riso Io ricordo di aver fatto Oh mio Dio Ma è piccolissimo Non ho riso Oh Gesù Cristo Perché mi sto trattenendo così A me è bellissimo questo Oh Gesù Cristo Stiamo aspettando il VAR di Andrex Stiamo aspettando il VAR di Andrex Hai sorriso Non ho sorriso Vabbè questo è vecchissimo Già visto C'è un pesce Già visto No vi prego Vi prego non portatemi in Emilia Romagna Per favore Pronto di fare il bravo agente Vai È il momento di controllare il VAR Signori È il momento di controllare il VAR Vediamo Vabbè questo è troppo vecchio Si è ucciso Ma è piccolissimo sto meme Non riesco a percepirlo È una risata raga Non è una risata Cioè è uno sbuffo È un È uno sbruff Non è una risata Dai Vabbè questo è troppo vecchio È una sbuffata Non è una risata Si è ucciso Ma è piccolissimo sto meme Non riesco a percepire Oddio però c'è effettivamente Vabbè è una snuffatina Non è una risata Non è una risata Il VAR ha chiarito Il VAR ha deciso che non c'è risata Ecco Grazie VAR Erva Ervar Oh mio dio Che palle Non è una risata Confermato 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 Continuiamo Ok Not funny Dannazione Già visto Era solo una motosega Incredibile Incredibile umorismo Di TikTok Tiktoker vedranno questo video E diranno Oh my god Capellino aio XD 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 Sono così divertente XD 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 Ora lo spawn è nel pò No Ciao Zeb alla prossima Tanti bambini come John Non hanno mangiato ieri Smettetele ragazzi Vi bravo Che not funny Quarter pounder defies physics Poi i polli che non riescono a prenderlo è la parte migliore Va bene Stupendo Stupendo Like you cut G Ah No C'è la parte di Calabria C'ha distrutto l'Europa Caruccio Le fisce chocolate Perché l'or Vabbè questi sono vecchissimi No No Ok Ok Io ho visto un video così Dio santo E non era animato Cosa cazzo è sto video Mister d'acqua Grazie del diciannovesimo mese E Poldo il grande Grazie del prime Ciao ragazzi Oh Vuoi giocare un buon game Beh Vai al tuo padre Wario Svevo un buon game Raid Shadow Legends Hanno un po' perso di valori i meme Ammetto Letteralmente il mio clip Scimmie Pesce Mamacuebo Dico Blu 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 Ok Cringe Cosa fa questo Me lo salvo Non mi ha fatto ridere Giuro Cringe Oh mi piace Sto cazzo è bellissimo Gatti Ciccioni Ma pera Giocattolo Ok Mi ha sto cazzo di effetto sonoro di TikTok Ok Basta questo Cosa cazzo ho visto Poi il presentatore tipo Ehm Ehm Wow Bellissimo Pane Stavo smagliando Stupendo Non volevo Dovevo leggere meglio Illuminati di crew Sono loro Questo l'ho visto bellissimo Ma il bambino si schianta Fatti Boom Eh L'avevo già visto Non è vero Io sono ricco Marco Merino A casa di Dario Moccia Ok Ne ho visti di migliori O non c'è audio Gatti che litigano La mia vita È riassunta qui È riassunta letteralmente qui Grazie mille A mister Matto Khan Per gli 8 bit Sì È legale Non rischia nulla L'età del consenso In Italia è 14 anni E da 14 anni in poi Una ragazza può decidere Di stare con chi vuole Anche con una persona Molto molto più adulta di lei Questa è la legge Aiuto Cosa cazzo dici Soul Greco Sì È legale Non era una risata quella di prima Era un tipo Un continuo al mio Soul greco Padre Pare che Hanno farnuto gas Temo Non ci rimanga Altra scelta Dobbiamo andare Dalla sposa Atreus Figlio mio Oggi Non appareremo Dalla sposa Il chimicone Non è l'unica soluzione Saremo noi A decidere Da chi apparare E come fumare Saremo noi A decidere Il nostro destino Nui Amma essere Chiù Meglio L'or napoletana Io non posso capire Ammetto che ho mezzo riso Che cosa c'ha questo meme Che non va Oh Me ne sono accorto Troppo tardi Vabbè Cacone Ormai è rimasto Nella Nella legge umana Quasi riso Quasi 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 No mi sa che sono andato in parti Che falle Ah lo stronzo Mi pantano Minchia Pure io Vabbè Greve Veneti che giocano Questo è un meme Caricato su tiktok E registrato da youtube Cioè ma Vi rendete conto I don't know Is Alvano Is dead Or alive Until I watch Inside the box Shut up Okay Cavallo coi pantaloni Mi ha tremato la voce Mi ha gelato l'anima Vabbè questi vengono invasi Dalla piscina Questo è vecchio Con i miei avventori Mi hanno rotto le palle Mi hanno messo Team Fortness Sono Andrew Tate E questo è Max Gli ruba l'uovo Poi fa una canzone dubstep Lui balla Madonna quanto ho fatto Non ci sono più di 600 mod Sex Quindi Wtf E' bellissimo E' incredibile Questo è davvero carino Oh Gesù Cristo Ora leggere al contrario E' una parola palindroma Non lo sta suonando lui Dai Oddio è là sotto Sicuri? Ok I miei amici stanno diventando noiosi Noioso Così Banane 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 In pigiama Oh Normalissimo Ornitorinco Perri Grandi fan dei meme di Gigante E degli anime Oh Gatti Dottor culo cane Minchia che divertimento Come fanno a dormire Sette bambini In questa stanza Ah Scusate Ma perché questo design Iniziato con tipo Delle tigri Che combattevano Con Non ho capito Vabbè A parte che poi A parte che poi E' Winston E' Winton Mi ha fatto ridare anche questo Pacola Cringe Ma quello è il vero Non pagano l'affitto Quindi io gli posso rompere il cazzo Tutto il giorno ai gatti No Dai sono tutti scontati questi Questo è il bambino che vomita Questo è Non lo so Però era bello Questo a me mi faceva ridere Quando ero piccolo Quando ti chiedono Da quanto non ti annusi Il sottopallo Bannate questo utente Dal server discord Con tanto di segnalazione Allo staff di discord Per abuso No 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 Ok no Facciamo di no Però porca troia Ok Ok questo ci sono pure cascato Ok Dopo un poco Forse faccio lo scudo Dai mamma Non mi fa più ridere niente Sì credo di aver sviluppato Una bolla I meme non mi fanno più ridere O sono i meme Sì sono totalmente cringe Oddio questo è bello però L'ho già visto Bianconata Dio La canzone è fuori Sì dobbiamo abolire i tiktok Nelle regole comunque I mean Thank you Mark Vienno retrovero village De vacanze Molto bello Sì Perché non Playing with his toys As his mom watched Paul And gets naked Sto Paul Do Mister Poldo Beh giustamente Si non ha mia testa E cazzo Oh Tecno Eh si Sono fuoco I cartelloni Della Della farmacia italiana Ok Che ansia Dio santo Basta i meme su team fortress 2 Questi vecchi Questi vecchi Questi sono vecchi Oh mio dio Perché li stanno facendo A post è tornata Dicevo Perché stanno facendo una Un'analisi A questo pesce Uno v uno col gut Questo è già visto Ok questo cos'è Di nuovo Palle Ok Ce l'ho fatta A mettere pausa Ok Provabile Vecchio come la fame Vecchio come la fame Quest'ora di Torino Ok Lira del vicino Top 5 Città Più Belle Ok Città della Pieve Mi sto Stavendo la depressione Busto Garosso Albania Giusto Busto Arsizio In realtà Busto Arsizio Paperino Ma che cazzo è Paperino Pino scotto Madonna che lentezza Ok anche questo l'avevo visto Non esista Vetti sbagli di grosso orno E lui è uscito E non puoi Fare nulla Lui ti osserverà Sempre Voglio andare a dormire Voglio andare a dormire Pino a me Oggi fanno un film Cioè in realtà erano belli Pino a poco fa Vomitare O sono vecchissimi O sono tipo TikTok Basta Basta non guarderò più Tiktok Dio santo That honeycomb That honeycomb looks Succulent Amazing Immaculate Oh Why did he eat the beans? Ma ha mangiato l'ape Vabbè Ma perché Dovano essere così In verticale? Vorrebbero Rimuovere la capacità Di caricare i meme Su TikTok Veramente Togliete i meme Da TikTok Già visto questo Molto bello Il capo sotto Tutto truccato Che non si può riconoscere Dei dipendenti Cosa? Grazie a Mr. Otton Per il tier 1 E a Bimi Pepper Per il Prime Basato Alcuni goofy beats Sono belli Abbiamo visto anche La versione si Vabbè Questo vecchio Cervo dubstep Ok 65 euro Per una pizza Ma siamo matti Dove è finito il meme? Forse era bannabile Greve È stato cancellato Nel momento in cui Lo stavo guardando Purtroppo Raga Adesso è bannato Con l'utente Wolf è intervenuto Qua non è intervenuto In tempo Purtroppo Wolf non è intervenuto In tempo Povero Wolf Vabbè L'utente purtroppo È stato È stato Mega Ista bannato Quindi F 65 euro Per una pizza Non ti permettere mica Ma che devo chiamare Le phone Nemme che vengono Eliminate Gesù Cristo Milano Milano E 650 euro Più 150 euro Di spese condominiali 65 euro Per una pizza Ma siamo pazzi Bellissimo Scusa Dove hai messo il caccatore Che devo Cacca il telefono Che devo This could give you Sever brain damage What word is this? Oh Vabbè Voglio vedere il culo di un bambino Visto varie volte Basta con me Basta tiktok Dio ma Si sente 5 euro per un pizza Ma siamo matti I like to solve the puzzle I go ahead Però è arrivato Dimmi che nel replay si vede il tizio sdraiato Dimmi che si vede il tizio sdraiato Si palmucci mandali alla fine così Mo vado Basta 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 Oh hey Is that Kevin? Vabbè Vai le aspetto Le aspetto Sono qui Sono qui Salterò tutti questi qua cringe Tipo questo del gatto che fa Un tiktok Un video meme di Walter White Dio santo È per questo che non apro un subreddit Quando mi chiedete Poldo dovresti aprire un subreddit No 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 Nel traffico e scaccio sport 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 Nel traffico e scaccio sport Bravi piedini Disgustoso Aspetta cosa Bravi piedini Disgustoso Gentile capotreno Il mio regionale di luce Deve essere come me Scassato Sparco di piscio Slug Slug Non guarderò più i tuoi meme Get to dub Stepmaster Basta Sti video verticali Dio santo E questo Già Tolto Perfetto Si è tipo Buggato Discord Non si sta capendo più niente È pieno Odio il mondo Che succede? Visto Nectare Nectare Nickel Not funny No Squid Game No Poverino Io non ammazzo le formiche Peter Peter The horse is here Non ho riso Questo è il Boogie Power Bellissimo Era un ragno Che fumava Ma com'è possibile Via pane e sperma Che paura Che paura This is a real Scary tale Salviamo Perché c'è un pozzo Nelle fogne Questa live è diventata Noi noiosissimo Mi nome è Gustavo Der Derby Che Di Ti Grazie. Grazie a tutti. Sì. Sei tu? Sì, sono io. Ciao! Che cosa vuoi, fan? Com'è tutto il mio numero? Ho cercato Ettore Cano un numero su Google. Chi è Ettore Cano? Cano? Tu? Lion, VGF? Ah, è vero, sì, sì, no. Sì, è vero, sì, sono io. Sì, tu? Sì. Sono io quello lì, lo Youtubers. Ah, mi saluti nel prossimo video? No, a meno che non fai un mega iperabbonamento superchat da 250.000 euro. Questa è una cosa proprio da Lion. Grazie Lion, ci vediamo. Ciao! Prego, ciao! Ciao, alla prossima, Fiero. Ciao, molto, adesso è live del cazzo. Ciao! Grazie a tutti